Il Parco delle Energie di Roma ha ospitato l'Assemblea Nazionale verso il referendum VNOTRIV, 200 associazioni fermatarie contro la trivellazione e per una nuova strategia energetica del nostro paese. Le trivellazioni mettono a rischio il nostro ecosistema marino e il turismo. Si pensi al disastro avvenuto nel 2010 nel Golfo del Messico, che ha modificato irreversibilmente l'ambiente circostante. A confermare che il futuro è rinnovabile ci pensano, come al solito, la Danimarca e la Svezia, che annunciano di liberarsi definitivamente del petrolio in pochi anni. Con questo referendum gli italiani daranno la giusta via per un paese sostenibile. È andata benissimo perché in appena 15 giorni 10 regioni hanno deliberato quasi sempre in unanimità la richiesta referendaria, non soltanto dell'articolo 35 del decreto sviluppo che riguarda le trivellazioni in mare, ma persino di altri 5 quesiti, tra i dei quali relativi allo sblocco Italia e due collegati allo sblocco Italia che riguardano un decreto del 2012, quindi approvato sotto il governo Monti, e una disposizione relativa alla legge 239 del 2004, che è quella legge di riordino del settore energetico. Quali sono i prossimi passi? Stiamo attendendo la decisione definitiva, l'ordinanza definitiva della Cassazione, sulla regolarità del referendum, dopodiché il tutto passa nelle mani della Corte Costituzionale, che dovrà pronunciarsi con una sentenza entro 10 febbraio, ma in realtà la Corte si pronuncia normalmente a metà gennaio, quindi per quella data potrebbe già esserci la sentenza, che si spera essere di ammissibilità. In questo caso si potrebbe quindi andare al voto, qualora dovesse essere di ammissibilità la sentenza della Corte, al voto in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno del 2016. La questione principale ovviamente è quella del quorum, cioè portare al voto 26 milioni di italiani almeno. Questo comporta che occorra studiare una strategia che in modo sinergico veda collaborare e lavorare assieme tutti gli attori di questa campagna, quindi iniziare dai delegati regionali, ma anche dai partiti, dai sindacati, dalla società civile, dai movimenti, associazioni e comitati, perché l'obiettivo è unico. Da quando siamo nati che il nostro obiettivo è quella della decarbonizzazione del sistema energetico che porta 400 mila morti all'anno nell'Unione Europea e 300 miliardi di danni ambientali all'anno. Quindi il fatto di appoggiare un referendum contro le trivellazioni che sono estremamente dannose ed inutili anche dal punto di vista economico, o meglio utili solo a quelli che le fanno, quindi alle lobby petrolifere, per noi è assolutamente chiaro e definito, quindi siamo qui a testimoniare questo. La rivoluzione industriale è quella che lei dice sostenibile, è l'unica possibilità che abbiamo davanti a noi. C'è una rivoluzione che rimette in discussione tutti i parametri che abbiamo vissuto in questi cento anni di storia, per cui è possibile ripensare a modelli che non consumano energia, che non consumano l'ambiente, che producano lavoro però, che sviluppino e valorizzano l'intelligenza delle persone, che oggi sono tante, sono più forti di ieri e che invece mantenendo i vecchi modelli sono intelligenze che vengono buttate al mascero. Noi non ci stiamo. Dobbiamo arrivare al referendum, dobbiamo convincere i cittadini a votare sì a tutte e sei quesiti e fare in modo che, ancora una volta, se il popolo italiano come sul nucleare a dire noi vogliamo le rinnovabili, vogliamo un paese ecologico e non un paese inquinato al petrolio con gravi rischi.